Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 159esima puntata del podcast di Marcos Box. Ho comprato un tappetino nuovo per i mouse e tastiere, l'odore che emana mi fa percepire la lingua mara. Secondo voi ci arrivo alla prossima puntata del podcast. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie al mondo del software libero open source. In questa puntata parleremo di una vittoria per i sostenitori della libertà digitali e della tanto attesa nuova versione di Fedora. Apriamo questa puntata come era stata aperta la precedente, ovvero parlando del rilascio di Fedora 39 che è finalmente disponibile per il download. Come saprete il rilascio di questa nuova versione era stato posticipato a causa della scoperta di alcuni bug dell'ultimo minuto che fortunatamente gli sviluppatori sono riusciti a risolvere in poco tempo. Quali sono le novità? Quella più interessante riguarda l'edizione principale di Fedora grazie all'arrivo di Gnome 45 che si porta dietro una serie di miglioramenti alle prestazioni e all'usabilità del desktop, fra cui un nuovo switcher per lo spazio di lavoro e un visualizzatore di immagini migliorato. Ovviamente sono stati aggiornati anche i desktop environment delle spin ufficiali. Spesso mi viene chiesto un parere sulle spin ufficiali per capire se sono o meno in termini di stabilità e altezza rispetto all'edizione principale. Da quel che vi posso dire, per esperienza personale, le trovo buone per utilizzarli tutti i giorni e conosco diverse persone che utilizzano regolarmente le versioni con KD e plasma, quindi pensateci, Fedora non è soltanto Gnome. Vi segnali notte che questa nuova versione di Fedora introduce anche una edizione speciale con buggi desktop di tipo atomico in stile Fedora Silver Blue. Ovviamente come sempre per maggiori informazioni vi rimando all'articolo dedicato sulle pagine del blog. Restando in tema di distribuzioni Linux, passiamo adesso a parlare del futuro di ElementariOS, in quanto Daniel Foregas, l'occupatrice principale del progetto, ha postato sul blog ufficiale della distro alcune info su ElementariOS 8. La prossima major release di ElementariOS sarà basata su Ubuntu 24.04 LTS e se tutto andrà per il verso giusto verrà rilasciata verso ottobre 2024. Tre sono le novità principali attese per l'OS 8. La prima e di certo la più importante riguarda l'arrivo di pieno supporto a weekend. ElementariOS 8 utilizzerà weekend per impostazione predefinita. Gli sviluppatori sono ormai da tempo a lavoro su questi importanti cambiamenti e già da ora i partecipanti al programma di eReaccess possono testare la sessione Wayland di Pantheon. Wayland considera gli sviluppatori di migliorare le prestazioni, la sicurezza delle applicazioni e supportare configurazioni di display più complesse come le configurazioni multi-monitor a DPI miste. La seconda novità riguarda la dock di sistema. OS 8 utilizzerà una nuova applicazione per la dock scritta in casa abbandonando dopo anni la cara vecchia e baggata Plank. Il motivo è presto detto. Plank si basa su librerie vecchie, ha problemi con alcune applicazioni sandboxate ed infine non è compatibile con Wayland. Quindi il cambiamento si è reso necessario. L'ultima novità, non meno importante delle altre, è la transizione LGTK4. La transizione LGTK4 è iniziata già nell'ambito del ciclo di sviluppo di OS 7 e attualmente già diverse applicazioni sono state scritte con LGTK4. Questa transizione continuerà nel ciclo di sviluppo di OS 8 dove sono stati pianificati e realizzati diversi porting. La transizione LGTK4 ha richiesto alcune riscritture piuttosto importanti di alcuni componenti e si collega in modo sostanziale alla preparazione di Wayland. Grazie al lavoro di riscruttura sono stati corretti diversi bug, migliorate le prestazioni e risorti problemi di accessibilità. Quindi potete aspettarvi un Pantheon notevolmente migliorato in ogni area come parte della transizione al LGTK4. Voi cosa ne pensate di Elementario OS? Qualcuno di voi lo utilizza come distro principale? Fatemelo sapere nei commenti. Parliamo ora di LXQT, il desktop environment leggero basato su LQT che viene leggermente bistrattato da parte dei pinguine che a lui preferiscono di solito soluzioni basate sulle GTK. Per tutti quanti i suoi utilizzatori ci sono due buone notizie. La prima riguarda il rilascio della versione 1.4.0 che va a migliorare diverse componenti in base di LXQT come il file manager, il terminale, il visualizzatore di immagini e la gestione del D-Bus. L'altra, che è forse la più importante, riguarda il futuro del desktop environment. Gli sviluppatori di LXQT hanno annunciato di star lavorando al porting all'EQT6. Se tutto andrà per il verso giusto vedremo la prima versione di LXQT basata sull'EQT6 durante il 2024. Voi lo utilizzate, LXQT? Fatemelo sapere nei commenti. Prima del break di puntata passiamo ad un'interessante notizia che riguarda il progetto GNOME. La GNOME Foundation riceverà un finanziamento di ben un milione di euro da parte del Sovereign Tech Fund. Di sicuro ho sbagliato la pronuncia. Il finanziamento è volto a modernizzare la piattaforma, migliorare gli strumenti e l'accessibilità e supportare funzionalità di interesse pubblico. Il fondo è finanziato dal Ministero federale tedesco per gli affari economici e l'azione per il clima. E ha già supportato altri grandi progetti come WireGuard, OpenSSH, Fortran. Il fatto che il fondo voglia investire anche in GNOME è un segno di riconoscimento al lavoro svolto in oltre 25 anni per il progetto GNOME. Che insomma ci sta. GG per GNOME. Se il Ministero tedesco è in ascolto ora date anche qualche cosina a KDE perché anche lì ha bisogno del giusto affetto economico. Poi se foranza qualche spiccio volete dare a me questo qua. Cambiamo argomento e passiamo a parlare di software libero. Gli sviluppatori di GIMP, il noto programma pensose multipiattaforma per l'editing di immagini, hanno annunciato il rilascio di GIMP 2.10.36, quella che probabilmente sarà l'ultima versione della serie 2.10 in quanto gli sviluppatori stanno ormai da tempo lavorando alla prossima versione 3.0. Innanzitutto GIMP 2.10.36 introduce il supporto per i formati di paletta Adobe Swatch Exchange e Adobe Color Book che vi permettono di importare ed esportare una vasta gamma di colori predefiniti molto utili per creare armonie cromatiche e scegliere le tonalità giuste per i vostri progetti. Inoltre GIMP 2.10.36 aggiunge una nuova opzione di gradiente FG to Transparent che crea una transizione netta tra il colore in primo piano e la trasparenza, ideale per creare effetti di luce e ombre. Un'altra novità invece riguarda poi il supporto per le immagini GIF con rapporto di aspetto non quadrato che vengono adesso visualizzate correttamente senza essere schiacciate. Questo significa che potete aprire e modificare le GIF animate senza perdere la loro forma originale. Insomma, GIMP continua mano a mano a perfezionarsi e introdurre funzionalità interessanti. Bravi! Concludiamo la puntata con una vittoria per i nostri sostenitori del software libero. La tanto contestata API Web Environment Integrity per gli amici Wii non approderà più i suoi browser web basati su Chromium. Google ha deciso così di accogliere il feedback negativo della comunità nonché dei vari produttori di browser web che si erano opposti fin da subito alla sua introduzione. De cui ve ne avevo parlato diversi mesi fa. Era una API introdotta in via sperimentale su Chromium che consentiva ai server web di valutare l'autenticità di un dispositivo durante la navigazione web. Se questa API fosse approdata nel ramo stabile sarebbe stata equivalente a introdurre un DRM per pagine web rendendo quasi impossibile il blocco degli annunci pubblicitari da parte degli adblocker oltre che un potenziale strumento di tracciamento e censura. Fortunatamente l'introduzione dell'API è stata bloccata da Chromium ora non ci resta che continuare a vigilare su Google perché sti scherzetti li farà anche in futuro. Sono sicuro. E con questa ultima notizia si concluge qui questa 159esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social su Facebook, X, LinkedIn, Mastodon ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo di notte che su Telegram trovate tre canali per seguire i blog la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a modi feed reader la community Telegram dove potete discutere di tutto ciò che vi interessa ed infine anche un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate e che potete utilizzare per supportare i blog grazie ai link di affiliazione o se siete più massimanetoni potete anche utilizzare direttamente voi il codice referere a Marcos Box 21 che trovate linkato sul blog. Fatemi infine ringraziare tutti quanti i supporti del sito che nel corso degli anni hanno effettuato donazioni come ad esempio Marcello che giusto qualche giorno fa mi ha inviato una grossa donazione. Grazie di cuore. Beh, un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao.